Sì, 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 sì! Abbiamo cominciato con il momento di preghiera e vogliamo concludere questa giornata splendida allo stesso modo. Prima però di fare questo breve momento, vorrei dire un grazie sincero alla Sindaco e a tutti coloro che hanno dato il contributo di ospitalità per questa giornata. Dovremmo sempre imparare a dire il nostro grazie. E' una parolina, Papa Francesco ci dice, che è una delle tre parole magiche che dovremmo sempre dire, pronunciare. Le altre due sono scusa e per piacere. Parole semplici, ma che ci aiutano a trovare il giusto rapporto, la giusta misura delle cose. Quello che abbiamo vissuto oggi, come quello che state vivendo nei vostri grest, come quello che vivete nelle vostre parrocchie, ma in tante altre cose, è un dono. Non è una pretesa. Non è qualcosa di dovuto. E allora, siccome è l'origine di ogni dono, c'è il Padre che è nei cieli, adesso ci rivolgiamo a Lui per dire al Padre il grazie per tutto quello che abbiamo vissuto, in particolare in questa giornata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. E ora, invochiamo la benedizione del Signore. Che il Signore accompagni sempre il nostro cammino, il nostro stare insieme. Ho intercettato, oggi pomeriggio, stando un po' di tempo con voi, alcune frasi. Mi sarebbe piaciuto ripeterle, ma non abbiamo tempo. Però credo che sia importante... È importante che... Chiedere al Signore che ci accompagni sempre, ci sostenga. E lo facciamo adesso invocando la benedizione del Signore. Che il Signore sia con voi. Che su voi tutti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Castello, che ci ha aiutato tantissimo per fare tutto. E adesso passerà in mezzo a voi una sorpresa. Due educatori per squadra vadano al punto ristoro a prendere... E adesso passerà in mezzo a voi una sorpresa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.